Sono oltre 800.000 i giocattoli potenzialmente pericolosi sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino prima dell'immissione in commercio. Con l'approssimarsi dell'epifania, le fiamme gialle hanno intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali al fine di verificare la regolarità dei giocattoli posti in vendita ed evitare, al tempo stesso, che nelle calze della Befana destinate ai bambini possano finire oggetti privi dei requisiti di sicurezza. In tale ambito, l'attenzione dei finanzieri si è concentrata nei confronti di un maxiemporio ubicato nel quartiere Madonna di Campagna del capoluogo piemontese, ove sono stati rinvenuti e sequestrati, oltre agli articoli destinati ai più piccoli, in particolare, statuette riportanti la Befana, pupazzi e peluche di Gnomi ed Angeli, vari stickers recanti i personaggi della Marvel, accessori per bambole, risultati privi del marchioce ovvero con apposizione del contrassemio contraffatto, anche accessori d'abbigliamento e migliaia di articoli per la casa che riportavano la mendace indicazione merceologica di origine italiana, nonostante risultassero prodotti in Cina e da quel paese importati, per un totale complessivo di circa 2 milioni di pezzi. Tra i beni cautelati vi sono anche macchine per il caffè tipo moca, articoli per cucitura e sartoria, casalinghi, tappetini ed oggetti destinati ad uso alimentare tutti riportanti, falsamente, l'inequivocabile tricolore nazionale, così da ingannare l'ignaro acquirente. Contraffazione e frode in commercio. Questi gli addebiti a carico dell'imprenditore titolare dello store, un trentenne di origine asiatica, denunciato alla locale procura della Repubblica. L'intervento della Guardia di Finanza torinese si inserisce nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione delle condotte commerciali ingannevoli riguardanti, in particolare la vendita di beni con false indicazioni di provenienza e la conformità dei prodotti immessi nel mercato alle normative dell'Unione Europea e Nazionale e agli standard di sicurezza previsti per i singoli articoli merceologici, a tutela della salute e della sicurezza, in particolar modo dei bambini, dei cittadini e del libero mercato. Grazie a tutti.